Ciao, sei un imprenditore nel mondo dei colori? Hai un colorificio? Bene, questo video è per te. Oggi voglio parlarti di come sono riuscito a raddoppiare le vendite di bianco nel mio colorificio grazie a una pittura già utilizzata da più di 500 persone in 114 comuni in Italia. Ma prima lascia che mi presenti. Io sono Claudio Caolino, titolare del colorificio Color Factory. Sono un imprenditore nel mondo dei colori da più di 26 anni e più di 12 destinati alla vendita di pittura. Ho sempre trattato marchi importanti di produttori di vernici e continuo tuttora su alcune gambe, ma non per il bianco da interno. Ma perché non tratto il bianco da interno dei miei fornitori? Perché grazie a un importante colpo di fortuna io al fianco di un chimico in laboratorio ho realizzato un nuovo formulato per una pittura da interno. Il suo nome è Pin Caolin, più bianco in meno tempo con la formula segreta il caolino. È una pittura artigianale idrorepellente e traspirante. Grazie al suo formulato si differenzia notevolmente dalle altre in commercio perché ha una copertura elevata, copre già la prima passata, rende quasi il doppio rispetto alle pitture tradizionali, con una latta da 14 litri faccio più di 100 metri quadri nelle due passate e ha una rapida essicazione che velocizza di parecchio il lavoro. Ma lascia che ti parli della cosa più interessante, come ho fatto a raddoppiare le mie vendite e come puoi farlo anche tu? Senza concorrenza, senza rischi e con un buon utile. Per questo ci ho preparato un report dove ti guido passo passo per vedere come ho fatto. Clicca qui sotto per scaricare il report. A presto e buon colore!